Diamo il bentornato negli studi di Temporadio al vice sindaco di Cavriana, di nuovo con noi Matteo Guardini. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del sindaco Cauzzi, anzitutto che è la cosa importante. Grazie, ricambiamo moltissimo ovviamente. Poteva portarci una torta di San Biagio da parte del sindaco? No, vabbè, prossimo giro, prossimo giro torta di San Biagio della mia mamma. Ah, non male, assolutamente. Grazie vice sindaco, ovviamente si scherzava, comunque se la porta è gradita. No, non ci preoccupi. Allora, ricordiamo agli ascoltatori una delle tante coordinate, numero per sms, messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105, lo ripeto, 338 17 19 105. Abbiamo accennato la torta per ricordare il fatto che c'è stata la fiera di San Biagio, l'antica fiera di San Biagio, Cavriano. Devo dire che stiamo gongolando, perché nonostante il tempo, tre giorni di acqua, San Biagio è San Biagio. Abbiamo visto la gente visitare il paese sotto l'ombrello. Questo vuol dire che il lavoro prezioso che in queste tre edizioni ha fatto in prima persona il signor Corrado Cattani, che ci aiuta in maniera straordinaria, che organizza in maniera straordinaria la fiera di San Biagio, è un lavoro che ha dato i suoi frutti. Siamo riusciti a ricreare quell'attesa, quell'aspettativa della fiera, quella ricerca di novità, quella certezza di trovare novità, che ha portato la gente, domenica pomeriggio, a vedere la gente che girava per il paese sotto l'ombrello, mi ha fatto capire che Corrado Cattani ha fatto centro. Abbiamo avuto degli eventi importanti in paese, finalmente abbiamo potuto ospitare anche la commedia della compagnia cavarianese Vultù in paese, nella sala civica. Era un'idea che avevamo lanciato l'anno scorso, per problemi di tempo non si era riusciti a conseguirla. Quest'anno ci siamo riusciti. Il taglio della grande torta, anche se bagnata, ha visto affollare tutti i posti coperti, quindi tutta la loggia di gente che aspettava questo grande evento, grazie alla collaborazione della pasticceria Parolini, ma anche sabato sera la presentazione di un libro nell'ambito della fiera in biblioteca ha visto un successo inaspettato. Ben 50 persone alla presentazione del libro Mincio Magico di Simona Cremonini. Ecco, poi abbiamo avuto ovviamente i laboratori di cucina per i bambini e il museo archeologico aperto. Una grande soddisfazione, quella è un po' personale perché ci ho creduto e l'ho voluto, abbiamo aperto i bunker della seconda guerra mondiale. 750 persone in due giorni. Qui va un grazie all'associazione Explora che se ne è fatto carico, quindi la gente ha visitato questa cavriana sotterranea. Sono bunker costruiti nel 1943 per proteggere la nostra popolazione. Sono due, quelli di proprietà comunale, ne abbiamo aperto uno solo perché l'altro non l'abbiamo fatto in tempo a renderlo visitabile. e questo poteva ospitare fino a 400 persone. Ecco, questa associazione è riuscita a superare quello che è il normale bacino della fiera di San Biagio perché abbiamo avuto gente che è venuta da Parma, gente che si è prenotata dal Veneto, da Pordenone, da Verona. Ecco, e quindi questo potrebbe essere anche il germe di un modello turistico. Un modello turistico, un bene culturale che nessuna amministrazione ha mai valorizzato dal 1943 a oggi di proprietà del comune, dato in gestione ad un'associazione che ne garantisce la visitabilità. Molti cavrianesi non li avevano mai visitati e quindi abbiamo avuto anche tanti cavrianesi che hanno potuto vedere quello che i nostri nonni hanno fatto proprio per proteggersi dai bombardamenti. Hanno potuto anche, grazie sempre all'associazione Explora di Castiglione, vivere l'effetto sonoro delle bombe all'esterno e questo ha portato anche il sottoscritto a riflettere sulle cose importanti. Quelli che hanno costruito, questi io li chiamo edifici perché comunque hanno delle dimensioni importanti, questi edifici sapevano che la vita era la cosa più importante e oggi spesso noi telefonino all'ultima moda e quant'altro, invece allora le cose che contavano erano ben altre. Beh ma si spera di non far mai parte di popolazioni terremotate, i terremotati però di quello si accorgono, non c'hanno più neanche la maglietta di ricambio tante volte, perché tante volte sì la vita era la cosa più importante e magari intanto la tua casa era centrata in una bomba e ti perdevi tutto, tutto, altro che telefonino, anche lo spazzolino da denti ti perdevi. Avevi la vita per poter cominciare. Esatto, che è il bene unico effettivamente. Ecco quindi questo vuole diventare un modello turistico e poi magari riuscire a estenderlo, cioè rendere Cavriana visitabile. Abbiamo anche il problema della Villa Mirra che purtroppo non riusciamo a permetterci di tenerla aperta, almeno nel periodo estivo. Io tra le varie dele ho anche quello al turismo e ci stiamo lavorando, stiamo lavorando intorno a questa cosa. Ecco io vorrei fare anche un appunto, il vostro giornale le chiama Noti Tristi, il Biagino d'Oro. Il Biagino d'Oro è il grande assente di questa manifestazione. Non l'abbiamo assegnato, non l'abbiamo assegnato perché quando abbiamo fatto il regolamento, noi della maggioranza, abbiamo peccato un eccesso di democrazia. Abbiamo scelto che la commissione formata dai capigruppi consigliari potesse decidere con la maggioranza più uno. Quindi che non si potesse assegnare la benemmerenza senza la partecipazione positiva dell'opposizione. Abbiamo approvato il regolamento, il regolamento prevedeva un termine per la presentazione delle candidature. Questo regolamento per lungaggini diciamo burocratiche è andato in vigore cinque giorni prima di questo termine perentorio per la presentazione delle candidature. Le due candidature sono giunte fuori tempo massimo e la commissione dei capigruppo ha ritenuto opportuno non assegnarlo perché non si rispettava il termine previsto dal regolamento. L'amministrazione Cauzi, come ho sempre detto, rispetta le leggi e le normative. Se la commissione avesse voluto avrebbe potuto decidere in deroga perché la volontà a consigliare era quella di assegnare la benemmerenza. D'altro canto facciamo di necessità virtù. Iniziare una benemmerenza nel 2017 magari non avrebbe portato bene e quindi la assegneremo nel 2018. Per allora modificheremo il regolamento in maniera tale che in prima sessione si decida ancora con l'aiuto delle minoranze. Qualora non si raggiungesse un accordo, in seconda convocazione possa decidere la maggioranza perché i cittadini hanno eletto la maggioranza perché potesse decidere. Questo comunque è un errore di gioventù nostro e ne facciamo mea culpa. Era una scelta, quella del Biagino d'Oro, che va nel segno del merito. L'amministrazione Cauzi vuole premiare il merito, merito che spesso non fa rima con anzianità. Abbiamo già introdotto, l'assessore Gaia Diderio ha fatto uno splendido lavoro introducendo il premio per i ragazzi delle medie che si diplomano con la LODE. E questo è già uno stimolo perché se non premiamo il merito non c'è lo stimolo ad eccellere. Invece bisogna stimolare all'eccellenza. Fermiamoci un attimino. Con il vice sindaco di Cavriana, Matteo Guardini, ci troviamo nella seconda parte tra un po' di minuti. Arriviamo. Aussussi a Castiglione. Il vice sindaco di Cavriana, Matteo Guardini, questa è la seconda parte di filo diretto con gli ascoltatori. Sempre bravi Guardini, visti probabilmente i tunnel, quelli rifugi anti-bombe, sarebbe bello se potessero vedere sempre. Bravi soprattutto perché quando ho visto che li avreste aperti sono rimasto stupito perché obiettivamente ci sono in tutta Italia, l'Italia era in guerra e ogni paese ha i rifugi. Ma io francamente non abito a Cavriana. Dovessi dire dove stavano quelli di dove abito o di dove ho abitato? Io francamente non lo so. Quindi siete veramente stati bravi perché avete trovato un pezzo di nostra storia. Sì, abbiamo delle persone anziane come il Dario Darra e il mitico Ruben che hanno assistito agli scavi e quindi ci sanno dire dove sono. I rifugi anti-aeree l'obiettivo è quello di raggiungere un accordo con questi speleologi, l'associazione Explora, perché li possano rendere visitabili o su prenotazione oppure addirittura aperti un sabato o una domenica con un calendario. Mitici Cavrianesi dice un messaggio che nonostante la pioggia non festeggiato San Biagio ha grande partecipazione all'inaugurazione. Poi, ancora peccato per il maltempo, la fiera della bella Sergio da Cavriana, c'è anche chi dice che se la prende col governo, va bene, insomma. Eh sì, il Biagino d'oro fa coppia con la capra d'oro, chiamate Sgarbi, firmato Luigi, sarà capra, capra, capra. Ebbè, con la capra rampante sullo stemma riuscissimo ad avere Sgarbi. La nostra commissione biblioteca porterà quest'anno Buttafuoco, da Radio 24. E quindi la nuova commissione biblioteca è partita e ci porterà dei personaggi importanti a livello nazionale. Sgarbi non è nell'elenco, mi piacerebbe molto perché invidio la sua cultura. Basta che non si metta a mandare a quel paese la gente, la sua cultura. No, no, beh, sono estere fatta, bloccare un'onorificenza per queste motivazioni fa davvero pensare che Avriana e la fiera di San Biagio hanno bisogno di cose del genere. Dice invece un'ascoltatrice, Raffaella, credo, il sindaco dovrebbe farsi vedere di più, firmato Raffaella. Allora, il sindaco ha rispettato la scelta democratica della commissione dei capi gruppo. La democrazia e il regolamento non permettevano di fare altro. Il buonsenso sì, il buonsenso da parte... Purtroppo le opposizioni hanno fatto il loro lavoro e noi siamo stati ingenui quando abbiamo fatto il regolamento. Per cui adesso lo mettiamo a posto e l'anno prossimo avrete il biaggino d'oro. Le spille sono già fatte e anche le pergamene. Manca solo il nome. Dice Daniele, dice non avete avuto il coraggio di farlo, dica la verità. No, ha appena spiegato il motivo. Signori, l'amministrazione Cauzi contro la legge non ci va, punto. I regolamenti del comune sono come le leggi, vanno rispettati e noi le abbiamo rispettate. Comunque, dice anche un messaggio, anche quest'anno l'amministrazione ha fatto centro. A proposito di centro e di amministrazione, ci sono delle opere importanti come le strisce pedonali e altro ancora? Allora, abbiamo fatto in un brutto periodo le strisce pedonali, più che strisce pedonali, le strisce sulla provinciale che va da San Cassiano al centro. Era una situazione di pericolo. Abbiamo fatto il 24 di novembre la variazione di consiglio per poter stanziare i soldi e poi abbiamo ottenuto dalla provincia autorizzazione a farle e le abbiamo fatte in questo periodo. Anche se non è un bel periodo, però portandoci verso le nebbie, la ditta che le ha fatte ha garantito una vernice speciale e dopo sono previste altre strisce quando il tempo sarà migliore. Si tratta di una situazione di emergenza perché la strada era pericolosa con le nebbie. Ecco, vorrei precisare che non abbiamo fatto le strisce perché l'amico Tondini è venuto qui a Temporadio a chiedere di farle. Bensì avevamo stanziato i soldi nel consiglio precedente alla venuta di Tondini a Temporadio. Quindi abbiamo fatte perché servivano, perché i cabrinesi le hanno chieste, coi tempi che ci ha consentito la provincia. Forse Tondini era meglio che votasse in consiglio comunale la variazione di bilancio che approvava anche i soldi per fare le strisce invece di chiederle. Scusate, ma prevenire è meglio che curare. Poi cosa abbiamo di bello? Allora, dunque, Simone dice guardi i fossi sono pieni di porcherie se continua a piovere. Che non è detto, anzi sicuramente non saranno cabrinesi perché c'è la transumanza del rifiuto. Noi abbiamo gli operai comunali che per un giorno a settimana vagano tra virgolette per il territorio a raccogliere immondizia. Ovviamente il costo, come ho avuto modo già di dire, non è lo smaltimento dell'immondizia, che è nulla. Ma sono proprio gli operai che per un giorno a settimana vanno a raccogliere l'immondizia che la gente non educata abbandona. Io chiedo scusa, poi con la pioggia ovviamente l'immondizia migra sull'acqua. Purtroppo sì. Allora, altri lavori importanti. Adesso ne butto qualcuno così, così ce ne parla lei. Il look della piazza, per esempio, il progetto dell'ingresso delle medie, la centrale termica, la palestra. Allora, a marzo partiranno i lavori di asfaltatura del piano asfalti 2016. I soldi ci sono, è già stato tutto appaltato, il vincitore della gara è la ditta Mantovani di Marmirolo. E praticamente rifaremo tutto il piazzale Mattioli, quindi quello per intenderci dell'asilo. E rimetteremo a posto tutta la via Porta Antica, la ciotolata di via Porta Antica, fino all'ingresso di Villa Mira. Dal monumento ai caduti fino all'ingresso di Villa Mira. Ci sono stanziati 50 mila euro di lavori sulla via Porta Antica e i restanti 80 mila euro di lavori sono stanziati per gli asfalti. Asfalti che interesseranno sì il piazzale Mattioli, poi la strada Breda, alcune vie nella frazione di Castel Grimaldo e altre emergenze nel territorio. Ecco, poi il 2017 è stato l'anno orribilis delle caldaie, devo dire la verità. Abbiamo iniziato durante le vacanze di Natale 2016 con l'allagamento della vasca che ospita le pompe di calore delle scuderie. Quindi tutte e due le pompe di calore si sono allagate. Una l'abbiamo recuperata, l'altra ha un importo lavori di circa 4 mila euro più IVA e ci stiamo lavorando. In settimana verranno posizionati e riconfigurati tutti i sistemi di riscaldamento dal lato destro delle scuderie che non ha mai avuto il riscaldamento e quindi poi verrà messa a posto anche la seconda pompa di calore. Le scuole medie sono state in emergenza dal 9 di gennaio fino a settimana scorsa perché una delle due caldaie installate nel 2000 quindi non si poteva chiedergli di più ha ceduto. Ora siamo in fase di ricostituzione della nuova centrale termica. Per fine mese avremo la nuova centrale termica. In questi momenti stanno installando il nuovo areo termo che scalda la palestra delle medie quindi per fine di questo mese le scuole medie avranno una centrale termica e un impianto di riscaldamento della palestra completamente nuovi di zecca. Questo ci farà anche risparmiare molti soldi perché l'investimento è di circa 20 mila euro però la metà torneranno indietro con il conto termico e il fatto di trovarli già a disposizione è significativo dei risparmi che abbiamo conseguito in questi anni di gestione del calore interno. Quindi queste disponibilità premiano la nostra scelta anche per alcuni versi controcorrente di internalizzare la gestione del calore, mettere la gestione del calore in mano ai nostri uffici tecnici del comune e quindi acquistare in primis sul mercato il gas e gestire la manutenzione quando serve. Il nostro mandato cade a 16 anni dall'installazione di tutte le caldaie del comune per cui adesso ci rimane ancora una caldaia di Villa Mirra, quella della sala civica e due dell'asilo dopodiché le abbiamo cambiate tutte e poi probabilmente per 16 anni grossi problemi non ne avremo. Allora guardavo, piazza da rifare, infatti lei ha accennato ai lavori appunto Luca della piazza. A 25 anni ci può anche stare, col traffico pesante ci può stare. Assolutamente. Parli del termostato, ci sono uffici con 30 gradi e uffici a meno 20, assi con bibite e uffici a meno 20 con i pinguini. No, allora io immagino che sia un qualche dipendente del comune perché gli unici uffici che stiamo riscaldando in questo momento sono quelli del comune, per il resto le scuole, ecco, il comune abbiamo fatto una scelta, abbiamo spento una caldaia, abbiamo creato un'ala, l'abbiamo fatta da archivio per svuotare il tetto dal peso e rendere più sicuro l'edificio in caso di sisma e quindi gli uffici hanno due sonde di regolazione, una al primo piano e una al piano terra. Ecco, questa è la situazione, è ovvio che sono impianti che possono essere regolati e gestiti, ci sono dei problemi, l'abbiamo fatto, sono fasi di taratura normale. La zona dove hanno scelto di mettere la macchina del caffè fa parte dell'ala vecchia non riscaldata. Se questo è un problema, penso che non ci fosse bisogno di dirlo qua in radio, basta dircelo, la spostiamo, io volevo metterla nell'atrio proprio perché fosse anche un punto dove la gente sosta in attesa di entrare negli uffici e possa prendere un caffè, quindi ne ragioneremo poi con le RSU e vedremo da fare. Certo, ma la macchina del caffè sta appunto, ci hanno fatto anche camera caffè, non a caso. Ma i nostri ragazzi su questo non sono come quelli di camera caffè, sono persone che lavorano in maniera seria. Allora, ma il caldo delle scuole, chiede un ascoltatore, non lo gestisce SISAM, chiede Graziano, credo ci sia anche un messaggio dal sito che leggiamo tra poco. Allora, SISAM non gestisce il calore di Cavriana per scelta dell'amministrazione che ci ha preceduto. Il lavoro di installazione di tutte le caldaie che abbiamo adesso è stato fatto da SISAM nei primi anni 2000 quando ha preso in carico la gestione calore del comune. Quindi ha installato caldaie che hanno retto all'acqua calcarea di Cavriana per 16 anni e alcune stanno ancora reggendo, come quella del comune, quella della sala civica. Quindi io devo dire che SISAM ha fatto un ottimo lavoro e ringrazio l'allora presidente e ancora presidente Paolo Oliosi che è una persona veramente brava. Allora, sul Biagino d'Oro dice Samuele, vorrei sapere se è vero che per colpa della minoranza non è stata data l'onorificenza del Biagino d'Oro perché se fosse vero è un gesto davvero mischino, non verso l'amministrazione ma per le persone che avrebbero dovuto essere premiate per meriti più che nobili. Fatevi valere appunto, dice il nostro ascoltatore. Allora, ecco, io vorrei dire questo, non si può dire per colpa della minoranza, c'è un regolamento, la minoranza aveva il suo peso e probabilmente è stato giusto darglielo il peso perché un premio di sola maggioranza poco senso avrebbe avuto. Aveva il suo peso, ha scelto di far valere la regola di dire sono arrivate tardi le candidature e una l'ho presentata io per cui sono arrivate tardi e hanno scelto di far valere il regolamento e il rispetto delle regole ha portato alla non assegnazione. È ovvio che il rispetto delle regole l'ha chiesto la minoranza e che secondo me il buonsenso avrebbe potuto dire è entrato in vigore cinque giorni fa il regolamento, facciamo uno strappo alla regola, decidiamo l'unanimità di fare lo strappo e di valutare le candidature. Le scrivono, è anonimo, la Lega dovrebbe stare fuori dalla giunta se volete arrivare alla fine lei lo sa, alla fine legislatura. Scusate ma in giunta con la testa della Lega abbiamo il sindaco, questo signore qui probabilmente non ha molto chiara, il sindaco fuori dalla giunta, chiedo scusa ma non posso che dire che il signore sia sbagliato. Poi le chiedono ma c'è Tondini in consiglio come minoranza? Certo, Tondini è in consiglio, sì, non posso dire di no, anzi. Il centro non è solo via Porta Antica e Piazza Castello ma lei ha accennato anche ad altre vie però prima. Sì, abbiamo anche tutte le vie del nucleo storico, del vecchio castrum romano che sono tutte acciotolate e che richiedono un po' di manutenzione. Poi dal sito Maria Alberta dice, signor vice sindaco vorrei ringraziarla personalmente per l'ottimo lavoro che ha svolto con il pedibus perché ha saputo risolvere greggiamente quello che stava diventando un problema, grazie. Io sono contento che i cavallanesi apprezzino questo lavoro che è stato fatto, non l'ho fatto da solo, ho avuto l'aiuto di tutta la giunta, sindaco in testa che mi ha spianato la strada perché dovete sapere che il vice sindaco come tutti gli assessori non può fare nulla se non ha l'ok della giunta o del sindaco o di tutti e due, quindi se ho potuto fare questo merito del sindaco e ringrazio, sono contento che i cittadini abbiano apprezzato. Abbiamo anche degli altri messaggi, bravissimi, bravissimi, bella fiera, bellissima, anche la serata sulla Shoah è stata commovente, anche questo è un altro messaggio dal sito invece. Siamo in chiusura, vice sindaco abbiamo una marea, li può vedere fisicamente, glieli tengo per la prossima volta di altri messaggi. Io ringrazio tutti, vi saluto e alla prossima volta. Grazie. Grazie a Matteo Guardini, grazie. Grazie a Matteo Guardini, grazie. Grazie a Matteo Guardini.